Il proprietario di uno scooter che gli era stato rubato ha riconosciuto il proprio mezzo posteggiato in via GB dei Cosmi. Allertata la polizia, le volanti sono andate ad effettuare un sopralluogo. Identificato sul posto un giovane 23enne con precedenti penali che diceva di essere il proprietario ma sprovvisto di documenti di acquisto. Da un'indagine più accurata i poliziotti si sono accorti anche che il numero del telaio era stato contraffatto. Il motorino è stato dunque sequestrato ed il giovane è denunciato per ricettazione.